Questa è invece la biella manovella. La biella manovella ha la funzione di trasformare un motorotatorio costituito dalla manovella in un moto alternato, in questo caso del pistone. La biella manovella è costituita appunto da una biella, una manovella, in questo caso dal pistone, ed è lo stesso meccanismo che viene utilizzato tutt'oggi anche per i motori. Praticamente la manovella si gira e attraverso la biella collega il pistone che in questo modo la fa muovere avanti e dietro, quindi in un moto alternato.